Vedete proprio intanto la Lambo che sta girando, passando lanciata in questo momento sul traguardo. Sì Guido. Un'altra cosa, questa è la nuova Lambo, probabilmente Nicola vuol fare dei giri di prova. Vedete la carrozzeria com'è cambiata, è uscito al curvone, ha toccato fortunatamente lateralmente il guardrail, può riprendere la pista e avete notato come possa essere traditrice la pista umida con questi tipi di assenti. È stato molto fortunato Larini perché è riuscito a passare, sta piovendo a dirotto.